Brasioli, questa mattina in Consiglio regionale avete illustrato una risoluzione a sua firma che riguarda il mondo infermieristico della nostra regione, parliamo dell'aspetto economico e anche di nuove assunzioni. Qual è stata la risposta della maggioranza? Allora, intanto abbiamo presentato una risoluzione che è la stessa, nello stesso testo, presentata in tutte le regioni d'Italia, anche da forze politiche diverse dalla nostra. Questa risoluzione presentata in Abruzzo era firma del Partito Democratico. Nell'ultimo Consiglio regionale, dopo tantissimo tempo che non hanno calendarizzato questa risoluzione, hanno addirittura votato contro l'unico Consiglio regionale d'Italia ad una risoluzione che chiedeva di impegnarsi al fianco degli infermieri e delle professioni sanitarie nella conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome. Marsiglio e l'assessore Verì, le cui forze politiche nelle altre regioni d'Italia hanno addirittura presentato questa risoluzione a sostegno degli infermieri e delle professioni sanitarie. Per quanto riguarda l'adeguamento dei loro stipendi e la stabilizzazione di tanti rapporti precari che ci sono stati durante il Covid, si limitano a denunciazioni di principio al loro sostegno, a scoprire targhe come hanno fatto, ironia della sorte, il giorno successivo, il 4 maggio all'ospedale di Pescara, per tutte le persone che si sono sacrificate per il Covid e per permetterci un ritorno ad un'economia aperta e quando c'è da prendere un impegno a sostegno di queste professioni votano contro senza esprimere alcuna motivazione a sostegno della loro posizione. È per questo che noi chiediamo anche a Matteo Salvini, al Presidente della Lega, di spiegarci che leghe ci sono in Italia. Se c'è una Lega del Nord a favore degli infermieri e una Lega del Sud che esprime, guarda caso, l'assessore alla sanità e che invece dà un'indicazione contraria all'aiuto a queste professioni infermieristiche sanitarie.